Leggendo questa richiesta fatta su GimpItalia su come inserire un logo su una serie di foto e nel contempo anche ridimensionarle, infatti dice se è possibile anche ridimensionarle, ho trovato un software che fa allo scopo, il software in questione è Fastone Photo Resize 3.0 che tra le sue opzioni ha il Resize e il Watermark, per cui lo andiamo a scaricare, scarichiamo l'eseguibile e possiamo utilizzarlo sia con Windows sia con Linux avendo su installato Wine come ho fatto io con Ubuntu, per cui lanciamo l'applicazione eccola, andiamo a trovare la director dove abbiamo le nostre immagini, è già aperta, sono queste due, abbiamo fatto una prova, e dove andremo a inserire le immagini modificate, prendiamo le due immagini, add, inseriamo, il formato di uscita ho scelto PNG identico a quello di entrata, poi ovviamente ho scelto la cartella dove andremo a finire le immagini modificate, ovvero questa qui, logo all image che troviamo qui, ok, poi ho spuntato l'opzione usa opzioni avanzate, ok, andiamo a modificarle, e abbiamo il Resize e il Watermark, Resize, le immagini originali sono 720x914, io le modifico, che ne so, lo puoi modificare in pixel, scegliendo uno modello standard, magari 800x600, lasciando cliccato Preserve Expectration, in modo che le immagini non si deformino, ok, e questo è fatto, poi andiamo a selezionare Watermark, seleziamo ovviamente così, Add Watermark, scegliamo il nostro logo, di default è quello di Fast Stone, ma noi abbiamo scelto uno nostro, ovvero Gimp Italia, lo possiamo mettere giù in basso a destra, al centro, a sinistra, insomma in tutte le posizioni, in alto, in basso, in centro, ok, possiamo aumentare e diminuire l'opacità, come vogliamo, quasi al 100%, diamo ok, le opzioni di Resize e del logo sono già impostate, possiamo guardare ovviamente un'anteprima, guardate, me le ha modificate, questa è l'originale, 720x914, questa invece è la ridotta, 460x600, ed ecco qua il logo, ok, anche l'altra, ok, chiudiamo, e poi possiamo tranquillamente andare a convertire, finito il processo, troveremo le nostre immagini, un attimo che apriamo la cartella, prova, queste erano le originali, queste sono con il logo, eccole qua, modificate, ok, questo è tutto, un saluto a Dogogo, ciao!